Ciao ragazzi, come state? Io sono Mario, il coach. Allora, oggi vediamo un altro piccolo workout da portarti a casa oppure in palestra se preferisci. Oggi utilizzeremo come metodo LEMOM, Every Minute on Minute. Non so se conosci questa metodologia. In pratica si basa sul minuto. Quello che rimane di questo minuto diventa il tuo recupero. Utilizzeremo oggi due, ho messo due stazioni, stazione A e stazione B, quindi prima e secondo minuto, così per dieci minuti. Attenzione, quindi nella prima stazione trovi i pull-ups, i push-up e gli squat. Nella seconda stazione troverai i plank e un'altra variante del plank, quindi due varianti del plank, in poche parole. Quindi, occhio ai movimenti. Attenzione, per chi non è ancora capace o non ha una buona educazione sugli addominali, non ha tanta forza, sui pull-ups puoi utilizzare l'elastico, ovviamente sui push-up puoi rimanere appoggiato sulle ginocchia e sui plank puoi anche lavorare sulle ginocchia. Ma poi adesso vediamo dopo. Se hai tu qualsiasi domanda, mi iscrivi sotto, ho qualche dubbio. Sotto puoi vedere se hai i movimenti in tutta sicurezza, quindi troverai diversi tutorial su cui puoi attingere. È tutto dell'attuto, ok? Quindi dai un'occhiata a questi movimenti. Se ti va e ti piace il coach, ti iscrivi al canale. Noi ci vediamo alla prossima e tu, Elena, che viene. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.